Ciao ragazzi e bentornati! Voi direte perché Colpo Gobbo è felice? No, in realtà non sono felice e mi verrebbe la voglia di strapparmi tutto di dosso e di urlare e di imprecare ma cerco di darvi l'entusiasmo almeno io ho visto che comunque le notizie che arrivano non sono proprio entusiasmanti Intanto, iniziamo subito con la novità oggi si torna a fare le live, si torna con le live chat discord quindi potete entrare a fare delle domande sul discord trovate il link in descrizione o sul gruppo telegram mandate il vostro vocale, oggi farò la sezione e quindi potrete entrare, lasciare il vostro vocale e lo leggerò qua in diretta con voi si parte dalle 23 c'è bisogno di condivisione, c'è bisogno di rimanere più tranquilli quindi si parte oggi con le live l'altra situazione che voglio raccontarvi è che dopo l'evento Adidas e visto e considerato un po' la piega che sta prendendo la YouTuber League Colpo Gobbo si è adoperato per la ricerca di una squadra qua locale che giochi a calcio a calcio a 11 inizierò già la settimana non questa perché sarò a Napoli a giocare con la YouTuber League inizierò la prossima settimana ad allenarmi in pianta stabile in preparazione anche della stagione che verrà poi non so se giocherò le partite eventualmente potrebbe diventare un format in più rispetto a tutti quelli che ho già vediamo ok poi insomma vi dirò di più intanto parliamo della Superlega la notizia che è arrivata questo pomeriggio è legata a un eventuale addio della Juventus alla Superlega io su questo ragazzi ci tengo a dirvi che secondo me le fonti che riportano le notizie alcune sono credibili altri meno relevo per esempio una bella fonte credibile per esempio Ciringuito Ni As Ni per cui mi aspetto eventualmente degli eventuali comunicati da parte della Juventus o comunque delle dichiarazioni ufficiali su questo su questo fatto aspettiamo un po' e vediamo evito qualsiasi commento anche perché qua da qui in poi potrebbero esserci altri scenari e commentare un segmento di una scelta specifica potrebbe un po' portare ad una visione un pelo miope attualmente il mio giudizio è negativo su questa cosa ma poi vediamo perché ogni cosa può avere degli effetti positivi o negativi possiamo essere apecorati possiamo essere venduti non lo so apecorati nel senso che magari il 2FA ci fa il ricattino dei 5 anni senza Coppa e la Juve ritratta politicamente quel progetto là e va a sposare di nuovo la linea UEFA non lo so se questo ragazzi mi fa incazzare terribilmente se la Juventus invece decide di ripulire un po' tutto e di vendere grande parte delle quote societarie ad una società che sta all'estero o un fondo americano o un fondo arabo chi che sia vedete che quella situazione là apre nuovi scenari voi direte ma che c'entra la Superlega beh risolvere le beghe che la Juventus in questo momento ha o impedimenti dare una società linda pulita senza debiti senza rotture di scatole erogne giudiziari eccetera facilita e velocizzia questa questa eventuale cessione non lo so sono tutti scenari ipotetici che li sto buttando a caso a caso non sono notizie non prendetele come notizie vi sto dicendo che prima di commentare la Superlega A. mi aspetto un comunicato B. voglio capire i risvolti di questa scelta perché ad oggi è complicato secondo un rumor arrivare a tirare delle somme ok per quanto invece riguarda la Juve su Allegri ho diverse cose da dirvi perché sento un bisogno impellente di sfogarmi in questo video sono incazzato nero con la società in questo caso perché Calvo ha condotto una battaglia meravigliosa e la ricostruzione dei fatti è la seguente Calvo scazza con Allegri in più partite Siviglia Empoli precisamente e Udine sono tre le partite dove Calvo va contro Allegri per le parole che ha utilizzato dopo la partita pre e post parole secondo Calvo gravi Calvo si adopera sta già iniziando a pensare ad un eventuale esonero di Max Allegri e intanto va a parlare già con Tudor Tudor che poi si è anche liberato perché i contatti con Tudor sono stati documentati da più fonti giornalistiche solide reali e quindi Calvo parla con Tudor Tudor si libera dal Marsiglia e Tudor è rimasto con un cetriolo in mano possiamo dire la tutta così semplificarla così perché perché Allegri è stato riconfermato dalla proprietà e Calvo probabilmente verrà tolto all'area sport e rimandato all'area marketing ora io qui dico due cose due e mi blocco qua e mi taccio qua una società che funziona in questo modo è una società di merda a mio parere che non andrà da nessuna parte che difficilmente avrà futuro perché dal momento in cui un dirigente e la voce dirigenziale viene tarpata dalla proprietà che segue un sottoposto di quel dirigente ovvero l'allenatore per me la dirigenza della Juve è il nulla condito con nulla in questo momento e non è una critica a Calvo Calvo ha lottato ha fatto il suo la critica è ai piani alti perché in questo momento alla Juventus non c'è una gerarchia vera e propria non c'è voglia di ribaltare la situazione c'è una società che in questo momento viene calpestata da sopra e da sotto Calvo tra Incudine e Martello questa è la situazione perché da una parte sbatte Allegri dall'altra batte il Can e lui non ha possibilità di incidere nel cambiamento che sperava e voleva per questa società dal momento in cui si verificano questi fatti io fossi nei panni di Calvo presenterei un foglietto con le dimissioni e me ne andrei a cagare non credo che Calvo sia una persona che muoie di fame dal punto di vista economico non credo che Calvo sia una persona così poco stimata da non trovare un eventuale altro impiego in qualsiasi altro club europeo perché ha dimostrato di sapersi barcamenare in una situazione tortuosa che secondo me con grandissima professionalità e con grande capacità comunicativa Allegri vince questa battaglia per ora perché per me è un per ora e voglio sperare che sia così perché altrimenti quello che si sta innescando ragazzi è un gran caos perché i tifosi e io ve lo dico con grande tranquillità e senza visioni soggettive ho parlato con tanti tifosi fuori dallo stadio perché sono andato spesso allo stadio a Torino in trasferta e le risposte che avevo sul conto di Allegri erano per lo più negative anche allo stadio mai ho toccato con mano questa indifferenza questa insofferenza non indifferenza insofferenza nei confronti dell'allenatore mai nemmeno nella prima ondata degli Allegri out perché quando si andava e ve lo testimonia il buon Vincenzo VB Channel quando andavamo allo stadio nell'ondata dei primi Allegri out non c'era questo clima instabile non c'era questo scoglionamento totale da parte della tifoseria non c'era se andiamo allo stadio cioè se siete andati allo stadio nel finale di stagione di questa stagione qua sono sicuro al 100% che i commenti della gente che avete avuto a fianco in quell'esperienza in quella partita quei commenti erano per lo più negativi pochi di assoluzione nei confronti di Allegri ed è la prima volta che mi capita è la prima volta a riprovo del fatto che adesso gran parte della tifoseria si è stancata e vuole una boccata d'aria fresca vuole prospettive nuove vuole una società forte che non venga calpestata dalla potenza del contratto di un sottoposto e allo stesso tempo venga calpestata da una proprietà in questo momento assente che se ne fotte totalmente che vorrebbe al massimo dare una ripulita e poi ripartire con chi vuole lei non è questo il modo di gestire la Juventus la Juventus in questo momento è nulla nulla e tanti stanno perdendo il senso d'appartenenza a questa squadra io non lo perderò io starò sempre lì a documentare la mia passione per il calcio e a tifare i miei colori perché quei colori per me durante tutta la mia vita hanno significato tanto sono stati momenti di gioia ci sono stati momenti di delusione ma mi sono sempre sentito rappresentato in questo momento non mi sento rappresentato siamo lontani anni luce da quella che è la mia Juve non vedo uomini che rappresentano la Juventinità e l'unico baldume di speranza che c'era era Francesco Calvo in questo momento stiamo andando stiamo andando tutto a farsi benedire fine c'è non c'è niente altro da aggiungere vogliamo tenere allegri va benissimo teniamo allegri entusiasmo sotto le suole delle scarpe perché comunque questa società se già quest'anno non ha venduto e l'anno prossimo senza le coppe dovrà anche cedere delle pedine importanti io mi chiedo come può uscirne con un allenatore che ha dato il zero in campo ha dato lo zero lo zero in campo non c'è stata alcuna crescita alcuna progressione alcuna evoluzione alcuna visione non abbiamo orizzonti davanti con allegri non li abbiamo addirittura perdiamo delle pedine forti perché Vlaovic lo perdiamo probabilmente rischiamo anche Chiesa perché non è che Chiesa sia invisibilio non credo che lo sia per la permanenza di allegri e questo vi dà anche la misura del fatto che il candispogliatoio non ne sa una beata cippa non ne sa una beata cippa non sa neanche cosa pensano i giocatori dell'allenatore a lui dello sport gliene frega zero zero se queste sono le prospettive della mia Juventus da qui in avanti se giuntoli arriva la Juventus e verrà calpestato così come è stato calpestato Calvo che aveva finalmente intuito dove erano le problematiche io mi chiedo con questa proprietà dove si possa andare inizia a chiedermelo inizio veramente a chiedermelo scusate lo sfogo alla fine ho detto tutto quello che non dovevo dire secondo me ma ve l'ho detto è stato veramente uno sfogo ancora poi aperto nelle ore più difficili credo da Juventino o sono state almeno nella mia maturità da tifoso ore molto complicate da elaborare molto complicate la mia maturità